Carissimi amici è arrivato per il YouTube e oggi tornavo qua su Ice Cream 5 Perché voglio mostrarvi alcuni bug molto particolari E voglio provare con voi ad utilizzare il teletrasporto Ebbene si, c'è un bug che ci permette di teletrasportarci da una parte all'altra E scambiarci di personaggio tranquillamente Quindi che dire, partiamo subito ma come sempre c'è di qui sotto tantissimi like Se like e che lasciate sarà pari, il personaggio associato a voi sarà Charlie Se invece like sarà Dis per il personaggio associato a voi sarà Liz Fatemi sapere qui sotto nei commenti a quale personaggio siete associati Iscrivetevi al canale con la campanella attiva così anche voi farete parte della Parino Family Ma adesso partiamo subito Cominciamo, tocchiamo subito gioca ma si mettiamo almeno facile Si torna qua a giocare all'interno del gioco di Ice Cream Mamma mia Ed eccolo qua Rodino Caro Chi si avvicina come al suo solito Entra lì e si avvicina sempre di più verso il suo garage Arrabbiato perché sui Chubby Boy sono scappati I Chubby Boy che lui aveva preso, rapito e rinchiusi all'interno di alcune celle E però Rodino Caro mi spiace ma tu non sei abbastanza forbo Perché noi della Parino Family siamo più forbi di Rod Siamo più forbi del nostro caro gelataio Quindi mi spiace ci trasformerai in una prossima vita in altri gelati Va bene ma adesso si comincia qua Siamo all'interno della sala macchine con Mike Voglio provare adesso a sfruttare alcuni bug all'interno di questo gioco Per vedere che cosa succede durante alcune cose molto particolari Quindi come prima cosa direi di aprire subito la porticina Perfetto ce ne andiamo di qua Velocemente E andiamo ad attivare direttamente il servizio della discarica In modo da avere i carrelli della discarica che si muovono Tranquillamente da una parte all'altra Andiamo di qua E' Mini Rodino però E che roba sti Mini Rod Sempre davanti stanno Sempre dove devo andare io vanno Ma che roba è Secondo me sti così qua mi leggono nel pensiero Perché se no non è possibile Che ogni volta che io devo andare in un punto C'è già il Mini Rodino che ci sta andando Non è possibile Su Mini Rod Vattene via Che fino ha fatto il Mini Rod Stiamo andando di là Ah eccolo Che cammina lì di lato Va bene vai pure di là Mini Rod Io nel frattempo attivo qua la leva Su attiva qua la leva Perfetto E ora me ne vado via 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 Scappiamo 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 Veloci 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 Adesso ce ne scendiamo qui sotto E abbiamo praticamente niente Ma sto Mini Rod adesso da dove è sbucato Da dove è uscito fuori sto Mini Rod Ma insomma ma mo sono salito un attimo E non c'era di qua Ma sempre dove devo andare io vanno sti cosi Sempre dove devo andare io Non è possibile Non è possibile che mi trovo in mezzo Vabbè Sentite anche se mi vede non mi interessa Su Mini Rod Tanto mi prendono Ci metto due secondi a liberarmi Ci metto subito Me ne vado via E che roba Fortunatamente i Mini Rod non sono come i gammi Sono pure lenti Quindi posso muovermi tranquillamente Che adesso chiamiamo qua Jay E proviamo a sfruttare adesso questi bug Che ci permetteranno Ad esempio di teletrasportarci E di scambiare il personaggio Da una parte all'altra Perfetto Allora come ben sapete No? Io quando ad esempio Non so Attivo qua un'animazione Posso attivare poi il menu Per poter scambiare gli oggetti No? L'abbiamo già fatto in passato Con questo metodo Avevo pure visto Jay Con quella posizione tutta strana Che tiene il telefono No no ma seriamente Tiene il telefono In un modo strano Una posizione veramente Che fa troppo a ridere A me fa ridere Come si mette lì Cioè ma seriamente Jay Ma tu quando parli al telefono Perché assumi quella posizione strana? No no ma veramente Perché mette quella posizione lì? Ma che roba Jay Ma che roba Ci sono comunque delle animazioni Che riguardano Ad esempio Quando noi entriamo dentro il tubo E' sempre il Mini Rod Però sempre qui davanti il Mini Rod E che roba E non è possibile E non è possibile Che mi trovo sui Mini Rod ovunque Sempre davanti Sempre in mezzo stanno Vattene via Mini Rod Vattene via E mi ha visto E mi ha visto Ok vabbè E' stato messo fuori uso da solo Si è messo da solo fuori uso Comunque Quando noi entriamo qua Ad esempio all'interno del tubo Come potete ben vedere C'è un'animazione No? Che fa vedere Jay Che entra dentro il tubo Ma io posso bloccare l'animazione E cambiare subito di personaggio Mentre lui sta facendo qua? Cosa succede Se provo a fare una roba del genere? Voglio provarlo qui con voi Non l'ho ancora provata Quindi un bug Che potremmo scoprire qua insieme In diretta Quindi come prima cosa Direi subito di sbloccarmi Direttamente La pistola microonde In questo modo Adesso io devo cercare di entrare E attivare subito il menu Perfetto Mettiamo qua la pistola microonde Vediamo che cosa succede Che sta succedendo Una doppia animazione Che sta succedendo qua Ma cosa? Ma che roba? Sì vabbè Pemini Rod qui davanti Cioè no guardate Ho fatto di nuovo Lo scambio del personaggio Sono diventato Mike Cioè io E sono entrato all'interno del tubo Che ero Jay Esco fuori Divento Mike Ma non è possibile Rod sei da queste parti Sì di qua Rodino Proviamo a vedere Se lo troviamo da queste parti Ok Apriamo quella porta Cioè veramente Adesso io qua A disposizione Le trappole di Mike Guardate qua Che bello Rod dove vai? Ma vieni qua Rodino Vieni qua Ma insomma Su Vieni qua dentro Mo ti ho visto uscire Ma insomma Dove sta andando Mo sto Rodino Dove va Rod? Così a caso Se ne va via d'altre parti Cioè io faccio rumore di qua E lui se ne va via d'altre parti Ma perché Rod? Ma perché? Ma insomma Ma viene qua Ma viene qua Ma non è possibile Che te ne vai così via A modo tuo A modo tuo Te ne vai via E vabbè Adesso provo a fare la cosa inversa No? Io provo ad entrare all'interno di quel tunnel Come abbiamo fatto prima Questa volta però metto Jay Quindi voglio dire che cosa succede Mini Rod Mettiamolo fuori uso Perfetto Andiamo Su Passa di qua E che roba Passa di qua Chiudi la porticina Adesso Direi già di sbloccare qua l'electrogan In questo modo Entro dentro E provo a mettere qua No non ce l'ho fatta Non sono riuscito ad aprire il menu in tempo Da notare che esce Jay Ma poi io sono Mike Cioè ma perché? Ma perché? Allora riproviamoci di nuovo qua da questo lato Se poi proprio non si riesce Non importa Entra qua Ok adesso riproviamoci Vai qua Perfetto Su attiva Ma perché non mi attiva il menu? Devo dire che non è facile qua attivare il menu Non è per nulla facile Adesso riproviamoci qua Ok No neanche in questo caso sono riuscito ad attivare il menu Mi sa che forse a sto giro mi è successo una volta sto bug E non mi succederà più Adesso Ok Ma non me lo attiva Ma dai Ma dai Cos'è? Hanno fixato il bug durante la partita Durante la partita fixano i bug Se no non è possibile Ok E no niente Non lo fa Non lo fa Non riesco più a premerlo in tempo Non ce la faccio Non riesco Ma che roba Ma perché Ma perché Ma insomma Ma insomma Ok Niente Non lo fa Non lo fa Vabbè Per fortuna siamo riusciti a farlo una volta Quindi l'importante è quello Voglio provare adesso a fare un altro bug Riguardo questa volta Sapete che cosa? I carrelli della spazzatura Della discarica Quindi adesso esci qua fuori Dobbiamo avvicinarci qua Verso i carrelli della spazzatura Però aspetto il prossimo No? Così sono più vicino a prenderlo Perfetto Mentre si avvicina Mentre io salgo Attivo il menu Quello dello scambio Oggetti E mettiamo qui in questo modo Perfetto Ci abbiamo fatto in tempo Cambio personaggio Cosa succederà mai? Proviamo a vedere Ed ecco qua Guardate Guardate Ma ho la spazzatura in mano Ho la spazzatura Ma dove sta andando? Dove sta andando? Si sta muovendo da solo Guardate Si sta muovendo da solo Io sto toccando Anche perché volendo Non è per dire Ma manca qua la levetta per muoversi Quindi anche volendo far qualcosa Guardate Sta facendo da solo Sta facendo da solo Non sto facendo niente Ma che roba? Dove sono finito? Ma posso uscire almeno fuori? Posso riavere almeno la mia levetta? No niente Non posso muovermi Sono bloccato qua Si sta muovendo da solo Ma che roba Ma che giro strano Ma che Sto il tempo lancio spazzatura Ma guardate Ho la spazzatura all'interno degli uffici Come se avessi sbloccato tipo una seconda arma Solo che non potendomi muovere Non mi serve a niente sta cosa Non mi serve a niente Ma insomma Fatemi muovere qua dentro Fatemi muovere No niente Non mi fanno far niente Niente di niente Posso lanciare soltanto spazzatura Posso almeno rientrare dentro Se provo a cambiare il personaggio Succede qualcosa Sempre se me la fa fare Andiamo qua Vai sul telefono Ok Mi fa cambiare almeno il personaggio Almeno quello Possiamo farlo Si Che bello E siamo Niente Cosa? Non posso muovermi neanche qua Non posso muovermi con le gambine Ma che roba Ma che roba Vabbè Allora Torniamo ad essere Jay Perfetto Lanciamo qua il sacchetto della spazzatura Ce l'abbiamo di là Va bene Adesso Direi di skippare Niente Chiamiamo di nuovo qua Mike Dopodichè Proviamo a toccare il pulsante Per skippare Tutta quanta la cosa Vediamo cosa succede Sono veramente curioso Adesso Premi qua Lo skip Cosa succede? Ok Mi ritrovo qua Non posso far niente Sono sempre bloccato Ma cosa? Ma come ci sono arrivato? Ed eccoci qua E questo è il famoso teletrasporto Ci siamo praticamente teletrasportati Dalla stanza quella del telefono Alla stanza della discarica Ma come ci siamo arrivati qua? Ma come è possibile una cosa del genere? Come è possibile? Posso mettere fuori uso il mini rod Con la pistola a microonde? Sì Anche con la pistola a microonde Posso metterlo fuori uso Metti qua le trappole di Mike Mettevo tutte quante le trappole Ma quante ne sto mettendo? Quante ne ho piazzate di qua? Ma cosa? La torre di trappole è uscita fuori La torre di trappole Vediamo se il rod viene da queste parti Dopotutto il mini rod prototipo Ha fatto rumore Quindi aspettiamoci un rod Che viene qui molto molto presto Se viene Perché qua vedo che non viene nessuno Non viene nessuno da queste parti Ma che roba Ma se io provo a sparare qua la spazzatura con il microonde Succede qualcosa Più che spazzatura la fiamma che sta qua Non succede niente Nulla di nulla Ma che roba Ma che roba Adesso provo a fare di nuovo la stessa cosa Questa volta da questo lato In questo modo Perfetto Se prima ero Mike Diventiamo questa volta Jay In questo modo Vediamo cosa succede Ma di nuovo Cosa? Che è successo? Cosa è successo? Ma perché c'è della spazzatura qui sulla scrivania? Come ci sono arrivato? Perché mi ritrovo qua adesso? Così a caso Ma ero Mike Cioè voglio dire ero Jay Sono diventato Mike di nuovo Ma cosa sta succedendo all'interno di questo gioco? Cioè ho praticamente buggato all'interno sistema del gioco Tutto quanto ho buggato eh Ma che roba Ma che roba Se ci mancava soltanto che adesso qua ci trova CJ Vediamo se c'è la spazzatura e il sacchetto No Non c'è il sacchetto della spazzatura Ma io adesso provo a fare una cosa Provo a chiamare Jay Qui che sono Mike Vediamo che cosa succede Ok schippiamo Niente E' sempre Jay che si è teletrasportato Da una stanza all'altra Quindi doppio teletrasporto abbiamo visto qua dentro Doppio teletrasporto Ma quanti bug ci sono all'interno di questo gioco? Quanti bug? Adesso però voglio provare a fare una cosa Una cosa molto particolare Entriamo qua dentro velocemente Come ben sappiamo Quando noi entriamo qui dentro il tubo Succede un'animazione Vi parlo di questo tubo Quello che ci consente appunto di poter vincere Adesso verrò qua Adesso metterò tutte e tre le valvole qui dentro Dopodiché sbloccheremo il filmato finale E scopriremo che cosa succede Se io provo a cambiare personaggio Mentre faccio tutto ciò Perfetto Ho inserito tutte e tre le valvole Ho messo quel naso del mini rod Ovviamente non vi ho fatto vedere tutto quanto come si va Perché ormai vi ho fatto vedere un sacco di volte Come si finisce questo gioco E' il momento adesso di girare Tutte e tre le valvole Perfetto Uno Giriamo quest'altra E giriamo quest'altra ancora Velocemente E adesso possiamo tirare qua la leva Vediamo qua Entriamo nel tubo Dopodiché attiviamo il menu per lo scambio oggetti Per lo scambio personaggi E vediamo che cosa succede Ok Sto per premere qua Ok Cambiamo qua Vediamo cosa succede Ho fatto il cambio oggetti Vediamo se sblocchiamo qualcosa No Non succede niente Vabbè ci ho provato Ho provato a fare questo bug con voi Per vedere se succedeva qualcosa Se scambiava qualcosa Però niente Una volta che parte il filmato Tutti i bug vengono fissati sul momento Quindi che dire Per il momento di ridiferire quel video Fatemi sapere cosa ne pensate Fatemi sapere qui sotto nei commenti Se magari il teletrasporto vi sarà utile Spero che questo video sia piaciuto Se vi è piaciuto mi raccomando Spalicciate Cazzo vi siete iscriviti al canale Con la campanella attiva Non ci vediamo al prossimo video E come sempre vi auguro Buon panino a tutti Ciao a tutti E buon panino a tutti